Musica Si è svolto ieri sera in Piazza Italia Sottomarina l'ottavo trofeo di Pugilato organizzato dalla Box Cavarzere. Notevoli è la cornice di pubblico, circa 500 spettatori per i 12 incontri, di cui uno fra i professionisti Roncon e Yao. Hanno partecipato anche gli atleti della Mastini Chioggia, con Andrea Valenti che è stato premiato Miglior Pugil a fine manifestazione. Hanno ottenuto riconoscimenti anche gli istruttori Fontolan, Penzo e Denis Boscolo. I Mastini ora riprendono gli allenamenti, come ogni giovedì nel tardo pomeriggio, alla palestra dei padri Cavanis. Andrei una ripresa!